come si costruiscono i campioni quali sono le esigenze dei campioni quali sono le cose che poi alla fine un campione ha e uno dice beh come facciamo a chiederlo beh magari abbiamo così in giro per l'italia nei 170 relatori che abbiamo magari abbiamo qualche preparatore bravo che ha contemporaneamente l'atleta che va più veloce in italia perché viaggia in formula 1 quindi più di 300 km all'ora e anche l'atleta tra i migliori in italia che nello sport più lento teoricamente che il golf e dice come fai a gestire queste cose lo chiediamo a lui luigi angelini dalla sede di monopoli ciao luigi ciao gian mario ciao a tutti buonasera beh poi alla fine presentarti così la verità no tu sei preparatore atletico di giovinazzi unico atleta italiano in formula 1 che quindi va a 300 km all'ora che deve prendere decisioni che nel mentre che noi due parliamo lui ha preso 57 decisioni giuste e poi un altro atleta invece che adesso ci ce ne parlerai che nel golf invece deve fare delle cose diverse deve calcolare le traiettorie il vento i suoni le musiche le cose deve calcolare la mazza per arrivare lì e i tempi non contano beh insomma sono strategie diverse tu le alene entrambi e quindi essendo partito da grande lavoratore ai tempi insomma che per portare la pagnota a casa guidavi il camion perché uno dice sai ho preso la laurea quindi non mi assumono tu dici sì la laurea l'ho presa però nel mentre lavoro e poi con quei soldi e tanta codice io ho un sogno e ci ha messo anni per costruirlo guidando prima il camion poi facendo le cose poi fatto un centro bellissimo a monopoli dal quale stiamo trasmettendo prese la nostra sede per il sud italia però hai anche soddisfazioni incredibili dalla formula 1 al golf a livello stratosferico dici come si fa a te la linea grazie grazie giammario voglio innanzitutto ringraziare la sardegna questa isola dal cuore grande in grado di ospitare un'intera penisola in questo evento è in grado di ospitare anche tutte le città sparse nel mondo che hanno partecipato a questo straordinario evento voglio partire con il titolo del mio intervento eccolo scusate ecco qua che si chiama appunto sognando la performance a me è sempre piaciuto questo connubio tra i sogni e la performance c'è una relazione molto stretta e ora insieme la andremo a scoprire parto da una citazione di mohamed ali che dice che i campioni non si fanno nelle palestri campioni si fanno con qualcosa che hanno nel loro profondo un desiderio un sogno una visione mi ritrovo completamente in questa affermazione di mohamed ali però prima di parlarvi dei campioni come ha introdotto gian mario voglio parlarvi del del mio passato e per farlo mi presento mi chiamo luigi angelini sono un preparatore atletico professionista sono un il founder di performance lab sono laureato in scienze motorie sono un ex atleta di taekwondo e anche un ex camionista come appunto della mia vita da camionista io ho viaggiato con mio padre dalle scuole elementari fino all'ultimo anno di università sono molto perché sono frizzato con performance stando a stato contatto con il padre perché lui aveva un visione aveva un sogno voleva realizzare la casa che ha sempre sognato per lui per i suoi figli e la visualizzava perché sognare significa vedere qualcosa nel nel futuro per farlo senza alcuno studio aveva adottato negli anni si era sempre migliorato tutta una serie di strategie sia dal punto di vista fisiologico ma anche dal punto di vista lavorativo immaginate che i camionisti devono riuscire a mangiare quando non hanno fame e a dormire quando non hanno sonno stando con lui ho appreso che cosa significa la tenacia la perseveranza la cura dei dettagli e il rapporto stretto che c'è appunto con la performance per grazie a questa esperienza è come se ho accumulato una serie di strumenti di una ipotetica cassetta di attrezzi che mi ha consentito poi di esprimermi al meglio dal punto di vista professionale non non amavo moltissimo il camion perché mi impediva di vivere appieno un'altra vita che avevo parallelamente che era la vita da atleta infatti ero una cinturana era di taekwondo e vivevo per le medaglie per ottenere quanti più risultati possibili ho vinto diverse medaglie a livello regionale a livello italiano sono anche stato campione italiano universitario e e quindi avevo quest'altra passione avevo un sogno anch'io di andare agli olimpiadi ma pian piano ho avuto un mal di schiena che si è fatto sempre più pesante sempre più ingombrante nella mia vita fino a diventare uno scomodo compagno di vita e quindi mi sono ritrovato da essere un atleta appunto ad avere una vita da paziente un paziente che aveva una spondiolistesi e viveva due tipologie di dolore un dolore appunto fisico come potete vedere dalle immagini che c'è un catetere che c'è un drenaggio c'è un livido enorme ci sono quattro viti e due barre innestate nella colonna vertebrale è un dolore oltre che fisico morale di un atleta che non poteva più raggiungere i propri sogni vi posso assicurare che il dolore morale è molto più forte di quello fisico e allo stesso tempo il dolore però può essere una grande forza perché il dolore è in grado di migliorare la nostra sensibilità proprio in quegli anni sono mi sono interfacciato anche con i pazienti psichiatrici per cinque anni ho fatto il preparato preparatore atletico per l'asle con i pazienti psichiatrici sono stato a stretto contatto con la sensibilità quella vera quella senza filtri e allo stesso tempo ho rimodulato la mia visione che non era più solo verso la performance le medaglie ma era anche un po più emotiva rivolta alla prevenzione rivolta all'importanza della salute e rivolta verso gli altri e dopo un percorso molto particolare mi sono chiesto appunto di voler riprendere l'agonista che c'era in me voleva riprendere a fare le gare e ci sono riuscito sono tornato nuovamente a essere un atleta vincendo l'argento ai campionati italiani e in più il mio percorso da preparatore atletico prima nel taekwondo e poi successivamente passato nel mondo del golf perché dal punto di vista professionale il golf mi sembrava un ambiente più adatto a quelle che erano le mie ambizioni a quello che era il mio potenziale ho conosciuto un ragazzo un giovane si chiama francesco la porta ed era un dilettante pensava circa 60 kg era molto arrogante molto determinato molto deciso e non era un ragazzo facile da gestire a quel tempo aveva però un sogno un sogno grande voleva andare a giocare nella massima serie europea e ci siamo riusciti a realizzare questo sogno nel giro di quattro anni con altro lavoro tanto sacrificio siamo arrivati in cima siamo arrivati in vetta dove però l'aria è un po più rarefatta è più difficile respirare e ci siamo subito risvegliati da questo sogno perché siamo arrivati in vetta ma siamo arrivati un po improvvisando eravamo come dei frutti pieni di vitamine ma acerbi e quindi ci siamo ritrovati dopo poco di nuovo nella serie b nel challenge tour dove abbiamo dovuto rimodulare tutte le nostre competenze i nostri modi di fare anche grazie alla sport science academy abbiamo unito le evidenze scientifiche abbiamo chiesto la mano ad altri professionisti ci siamo strutturati tutto questo lavoro non è stato non ha avuto un riflesso immediato ma ci sono voluti anni affinché francesco assorbisse queste nuove questo nuovo modo di lavorare di pensare alla performance e al suo sogno affinché poi ad un certo punto con sempre tanto lavoro c'è stato come un salto quantico e francesco ha vinto due gare sul challenge tour e l'ordine di merito è stato il primo della classe ed è entrato nuovamente sugli european tour dalla porta principale paradossalmente il suo sogno era diventato anche il mio perché è uno di quegli atleti che ha la possibilità di andare anche a tokyo alle olimpiadi e il segreto di questo percorso è stato quello di crederci sempre anche nei momenti difficili avere fede nel lavoro e nel talento di francesco a gennaio di quest'anno ricevuto una telefonata da parte di un pilota che gareggia nella massima serie dell'automobilismo l'unico italiano su 20 a essere presente in formula 1 e mi ha raccontato quella che quelle che erano le sue ambizioni quelli che erano i suoi sogni e subito ovviamente ha accettato la sua proposta e abbiamo iniziato a lavorare avendo avuto due genitori che erano dei grandi lavoratori abbiamo iniziato a comporre i pezzi di un puzzle per capire verso che direzione andare per capire esattamente cosa serviva lavorando i sabati le domeniche 15 16 ore al giorno ininterrottamente abbiamo la nostra giornata tipo era strutturata così parlavamo due ore quando avevamo la mente fresca analizzavamo la stagione passata poi andavamo in palestra poi pranzavamo dopo facevamo il napping per recuperare durante la giornata di nuovo in palestra poi la sera analizzavamo altri video documentari tutti i giorni nella stessa maniera inoltre in quel periodo intervistato alcuni membri del team fra cui joseph le berer che è stato il preparatore di ayrton senna per sette anni mi ha dato delle informazioni preziosissime per strutturare al meglio quello che io ho definito poi un vero e proprio addestramento la abbiamo lavorato nel prestagione nell'off season con immaginando che la formula 1 fosse un fiume ricco di affluenti e questi affluenti sono gli altri sport abbiamo chiesto una mano agli sparing partner di varie discipline sportive fra cui francesco la porta perché ogni disciplina sportiva custodisce i segreti di una determinata cosa pensate ad esempio i golfisti custodiscono i segreti della concentrazione della tecnica i ciclisti custodiscono i segreti della resistenza di come saper soffrire e quindi grazie a queste affluenti abbiamo fatto in modo che antonio arrivasse il più preparato possibile sia dal punto di vista fisico fisiologico ma anche dal punto di vista umano perché le persone che ci hanno dato una mano erano persone con un vissuto umano importante questo fa la differenza e abbiamo sfidato le acque gelide ad aprile alle 7 di mattina abbiamo utilizzato dei caschi con dei sovraccarichi per creare gli adattamenti necessari poi ad affrontare le forze G in formula 1 e concludo il mio intervento con questo messaggio dicendo che l'analisi del modello di prestazione è fondamentale importante ma non è tutto quello che fa la differenza nei momenti importanti sono le relazioni umane che si innescano che devono essere sempre sane all'interno di un team e allo stesso tempo il rispetto verso i desideri i sogni che hanno le persone che alleniamo e noi siamo come dei se io devo pensare al mio compito è quello di aiutare questi campioni questi ragazzi ad andare in giro per il mondo e realizzare i loro sogni francesco ieri ha raggiunto un risultato straordinario è stato secondo a dubai il miglior risultato della sua carriera e Antonio fra circa un'oretta parteciperà al penultimo gran premio di questa stagione dove in classifica è appaiato con Kimi Raikkonen che è una vera e propria leggenda di questo sport che è il suo compagno di squadra. Ultimissima conclusione voglio ringraziare il direttore scientifico di Melsfit per aver anche lui sognato questo evento per averlo visto nella sua mente e poi averlo reso possibile insomma mi hai fatto emozionare quindi grazie però hai detto anche una cosa che nel mentre hai svelato anche qualche dettaglio tecnico no nel senso che Luigi che è la nostra sede a Monopoli lui come tutti gli altri gli ho detto allora dobbiamo fare questo evento tu sei la sede a Monopoli e lui mi fa Gianmario ti vorrevo dire sì sì ok quindi sei la sede a Monopoli no allora dunque ti volevo dire che ho Antonio Giovinazzi che ha il sì sì me l'hai detto basta va bene e sì però sta per fare il gran premio cioè in quel momento ti volevo cioè domenica non è che Luigi a posto ho capito durante il gran premio tu sarai libero te l'ho promesso e quindi è ovviamente tutti in questo questo puzzle incredibile è stato fatto in modo che il tuo collegamento da Monopoli sia stato fatto adesso a posto sei rilassato hai fatto una presentazione bellissima ora ora non è che ti rilassi fai il tuo lavoro che è quello di seguire Giovinazzi ti colleghi perché lui è lontano in Bahrain e quindi ovviamente devi stare lì pronto perché è necessario anche sapere cosa fare se da là c'è un problema e mi raccomando adesso da adesso noi ti faremo per te grazie perché aver anche tu fatto quadrare tutte le cose lo sai come sono fatto io non ho c'è non è possibile che mi dica di no cioè ma non c'è nella soluzione qui sei straordinario grazie grazie Luigi grazie a te Gian Mario e grazie ancora alla Sardegna aio aio ciao Luigi Angelini ciao Monopoli linea alla regia grazie a te Gian Mario